Salve a tutti e a tutte. Fra meno di un paio d'ore inizia l'ex OPG una discussione nel quadro del Due Giorni Inventare l'Avvenire. Questa discussione vuole mettere in luce il nessi tra lotta di classe, tra capitale e lavoro salariato e quelli che oggi chiamiamo conflitti di genere, lotte di genere e lotte ambientali. I compagni dell'ex OPG mi hanno invitato appunto a partecipare a questo dibattito internazionale chiedendo appunto un punto di vista marxista intorno ai nessi tra lotte di classe, tra capitale e lavoro salariato e questi due conflitti, cioè mi hanno detto di mostrare la valenza forte che questi due conflitti che così centrali sono nella contemporaneità hanno rispetto alla questione della lotta di classe tra capitale e lavoro salariato. Io ringrazio per appunto l'invito e qui vi dico il filo conduttore che seguirò nel discorso. perché si... perché si... perché si... perché? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti